Abito decreta il rigore. Rasoterra di Matteus, 1-0 per l'Inter. E l'Inter dilaga. Combinazione Breme-Serena ed è il 2-0. Tre minuti dopo i due si ripetono e la punta nera azzurra sigla il 3-0. Ancora Breme, questa volta per Bianchi che al volo da circa 20 metri fa 4-0. 4-1. E infine il 5-1 porta la firma di Klinsmann lanciato da Matteus. Grazie a tutti.